Bentornati su WorldStars e oggi siamo qui di nuovo per fare un altro video sperando che vinciamo alcune partite Andiamo Grazie a tutti Grazie a tutti Comunque se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al mio canale e iscrivetevi anche al canale di Checozzagotto E poi se vuoi dammi... Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Andiamo a vedere Grazie a tutti Grazie a tutti Andiamo a vedere Andiamoci a fare un'altra partita Andiamo... Andiamo a vedere E anche quest'altra partita Andiamo a vedere 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 Andiamo a vedere